buongiorno a tutti allora magliettina come sempre perché bisogna tirarsela e ogni tanto me la tiro anch'io eccola qua allora come dicevano in un vecchio cartone animato di tanti anni fa no mentre su new york scendeva mentre a tokyo iniziano le olimpiadi e ci danno da libidine soddisfazione perché abbiamo già portato a casa un oro nel taekwut con il buon dell'agnello che si porta a casa un bel giugliello che fa anche rima e un argento nella sciabola ma io dalla scherma mi aspetto parecchie medaglie partendo dalla sciabola fioretto eccetera 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 anche dalla spada perché no forse un po meno dalla spada ma dal fioretto mi aspetto la vittoria squadre medaglia squadre maschile femminile individuale maschile femminile vedremo cosa succederà mi toccatina di balle però di solito nella scherma l'italia si è sempre fatta purtroppo il buon samele ha perso contro l'ungherese che c'ha il cognome in stile cesni zibali se non sbaglio o quello che è però strano perché di solito sono i francesi i nostri peggiori avversari no quelli più invece no adesso l'ungheria diventata forte nella nella scherma comunque lasciando perdere le olimpiadi di cui farò un bel video riepilogo questa notte quando torno a casa perché sapete benissimo ci sono le cinque ore di differenza e quindi quando da noi è mezzanotte in giappone sono già le cinque del mattino le sei quindi sta partendo un'altra giornata è finita e quindi vi farò un bel riepilogone vi dirò l'italia anche perché gioca anche il basket c'è italia germania signori grande sfida comunque lasciamo perdere le olimpiadi perché io vi dovevo fare ho promesso che saremmo tornati a parlare dell'omicidio suicidio che non si è ancora capito quello che è successo del dottor pamiro mauro pamiro l'ho trovato fuori dal cantiere a crema paesino di crema cremona eccetera e non si riusciva a capire se era un suicidio se era un omicidio perché qui perché qua c'erano tanti dubbi c'era la dottoressa criminologa eccetera diceva non è possibile che sia un omicidio questo è sicuramente un suicidio gli avvocati dall'altra parte 24 pagine di requisitoria in cui dicevano spiegavano i vari motivi per cui non poteva essere un suicidio quindi tre giorni fa ci sono state diciamo la presentazione al gran non è il gran jury ma è un giudice che di fronte alla presentazione separata di chi propende per il suicidio e di chi propende per l'omicidio dovrà decidere che cosa fare se archiviare il caso come suicidio o se aprire poi un processo eccetera per capire effettivamente quello che è successo ebbene il giudice ci pensa tre giorni fa intorno alle 12.30 in un'aula del tribunale di Cremona a porte chiuse si è discusso della richiesta di archiviazione del caso Mauro Pammiro e dell'opposizione a tale richiesta il giudice delle indagini preliminari Giulia Masci si è riservata e farà sapere la sua decisione nei prossimi giorni davanti a lei il pubblico ministero Davide Rocco che sostiene la necessità di chiudere il caso come suicidio l'avvocato Mario Palmieri che ritiene che la moglie Deborah Stella indagata per omicidio come atto dovuto sia del tutto estranea ai fatti e gli avvocati Antonino Andronico e Gianluigi Tizoni che invece sostengono che è necessario continuare nelle indagini e andare a processo perché non si tratta di un suicidio a sostegno della tesi del PM le indagini effettuate su quanto accaduto al professore trovato cadavere la mattina del 29 luglio a 36 ore dalla scomparsa mai denunciata da casa in un cantiere di via Don Mazzolari poco distante dall'abitazione di Pamiro del tutto contrario all'archiviazione del caso sono gli avvocati dei genitori dell'insegnante che sostengono che ci sono troppi lati oscuri mai chiariti né dall'atopsia né dalle stesse indagini e che ritengono che il corpo sia stato portato nel cantiere dopo la morte presente all'udienza anche Franco Pamiro padre di Mauro da sempre confinto che il figlio non si sia suicidato allora ragazzoli io come vi ho già detto questo episodio mi ha ricordato un episodio di un po' di anni fa del RIS in cui una situazione molto simile di un cadavere trovato fuori dal cantiere che sembrava essersi suicidato eccetera poi andando avanti con le indagini vedendo come è caduto il corpo facendo il calcolo di come è caduto eccetera eccetera vedendo che certe chimosi però risultavano successive erano in post mortem eccetera eccetera venne fuori che effettivamente c'era stato un omicidio da un'altra parte si era simulato la stessa cosa gettando appunto il cadavere giù dalla quindi bisognerà vedere cosa decideranno eccetera sicuramente è una cosa molto controversa l'autopsia sapete benissimo l'autopsia a volte dicono e non dicono no non c'è ci sono certezze se uno muore perché gli ha sparato gli ha sparato c'era un episodio in cui praticamente un cadavere aveva più più ferite bisognava scoprire quale di queste era stata quella fatale eccetera eccetera quindi c'era un episodio in cui un poveraccio tirava sotto una persona che però era già morta e non era colpa sua però se l'era trovata lì all'improvviso come mai un attimo fa non c'era e subito dopo ti appare una persona che ti finisce sotto le ruo ci sono tanti lati oscuri come dicono come mettono qua in evidenza in evidenza perché ci sono troppi lati oscuri mai chiariti né dall'autopsia né dalle stesse indagini perché poi logicamente pro e contro pro e contro staremo a vedere cosa succederà siamo solo all'inizio perché giustamente il giudice ci pensa appena ho delle news qualora il giudice decisesse di ok andiamo a dibattimento andiamo a un processo oppure di dire signori ho preso atto di tutto quello che mi avete presentato mai arresto dell'idea che questo è un suicidio e noi no intenzione di di aprire un processo su questo fatto che per me è un suicidio non è una situazione facile non vorrei essere nei panni del giudice perché come si dice in america c'è un enorme ragionevole dubbio c'è un ragione c'è enorme perché nessun avvocato se non ha ripeto a parte quelli di emilton che sono andati a fare la querela alla emilton orologica esiste dal 1892 perché si permettono di utilizzare il cognome di emilton e lì francamente non l'ho capita perché ripeto un conto sera sera nata appena dopo che emilton avesse vinto il primo mondiale io posso capire che magari ma se una vita che esiste dal 1892 come cavolo fai a dirgli come vi permettete di usare il mio cognome che tu nel 1892 forse c'erano i tuoi bisnonni forse comunque ragazzoli io vi metto sotto il link in descrizione del mio racconto su questo mio riepilogo donna la carlo lucarelli perché come dico sempre carlo lucarelli e l'everest io sono il monte stella però c'era reso conto di quello che è successo con tutte le varie opzioni o quasi tutte perché non potevo farvi un video di un'ora e mezza perché sennò già quando sono dieci minuti mi dite Gigi sono troppo lunghi eccetera è che sinceramente mai fare video di cinque minuti mi viene da piangere cioè mi sembra di prendervi in giro quindi detto questo staremo a vedere cosa deciderà il giudice il pubblico ministero il giudice Giulia Masci non vorrei essere nei suoi panni ripeto non è una situazione semplice vedremo vedremo appena saprò qualcosa ve lo dirò nella notte farò riepilogone della giornata dell'olimpiadi abbiamo già preso due medaglia intanto libidine perché l'Italia nello sport si fa sempre valere è nel resto che purtroppo deficitiamo forse perché non abbiamo più dirigenti di una volta non abbiamo più ahimè i politici di una volta e ci stiamo facendo mettere i piedi in testa da cani e porci per il bonismo esagerato che naturalmente l'Italia noi siamo siamo i bonisti per eccellenza poverino andiamo al background e cosa ha fatto ammazzato due persone ma poverino era era in un stato di sconforto e allora bisogna venire gli incontro anche io sono in stato di sconforto cosa faccio vado in giro a eliminare tutti no metto sempre la mia faccia felice vi metto allegri e stop e vada come vada perché tanto quando c'è la salute c'è tutto ciao ciao